Musica Lunedì 25 novembre 2024, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana. Dalla redazione di Teleregioni in apertura della nostra rassegna stampa abbiamo un servizio, le professioni e le opportunità del mare nell'incontro tra autorità portuali di frontiera con i ragazzi dell'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. Ci dice tutto Valentina Ciarlante. Mare, fonte di ricchezza e di opportunità grazie all'attività dei porti ma anche al grande indotto che genera. Mare sinonimo di blu economy, strettamente legata alla tutela dell'ambiente. E grazie al mare sono tanti giovani che hanno trovato un'occupazione stabile, stimolante e soddisfacente e puntava proprio a far conoscere ai ragazzi quanto è profondo il mare. Per citare Lucio Dalla in senso metaforico, l'evento organizzato dalla dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco di Pescara, Alessandra Di Pietro, nell'officina del gusto della sede di Via dei Sabini. Italian Port Days naviga il futuro, le professioni del mare, il tema dell'incontro. Qui hanno preso parte la direzione marittima, la guardia di finanza col tenente colonnello Matteo Guerra, la polizia di frontiera col vicequestore Dino Petitti e il vice sovrintendente Stefano Tonto Donati, l'ufficio delle dogane con Luigi Di Giacomo e l'associazione agenti marittimi Marche Abruzzo col presidente Stefano Garraffo. Ospite il segretario generale dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale, Salvatore Minervino. È un'esperienza sempre affascinante, i giovani sono curiosi e cercano sempre di capire, di interpretare quello che noi offriamo loro e cogliere tutte le opportunità. Un'attività va legata alla vostra perché si occupa dei mare, che vuol dire turismo, economia, ma anche sicurezza. Certo, infatti la nostra attività è sempre svolta in connessione con l'autorità marittima, perché proprio la sicurezza è quella che dà garanzie sullo svolgimento di tutte le operazioni portuali, su tutte le attività sia turistiche che commerciali che si svolgono nei porti e non solo. La figura del cuoco di bordo è solo una di quelle sulle quali ci si è soffermati e per questo ruolo l'alberghiero De Cecco promuove un corso specifico. Consentirà ai nostri ragazzi di poter acquisire un attestato di donità e quindi semplificare tutto il percorso per poter accedere dopo il 17esimo adonità alla qualifica di cuoco di bordo. E quindi significa dare ai nostri ragazzi una formazione che non è soltanto inogastronomica, ma molto più ampia. E per lo sport il Campobasso torna alla sconfitta in trasferta in Liguria contro Lentella ci dice tutto Franco De Santis. Si ferma a Chiavari la lunga serie di risultati positivi del Campobasso costretto a lasciare tutto il bottino contro la Virtus Entella. Una gara difficile sbloccata poco dopo la mezz'ora dalla squadra di Gallo che la chiude con il lucchetto nell'ultima porzione. In mezzo sprazzi di discrete cose ma con scarsa lucidità in zona offensiva e una ripresa da dimenticare. Dopo neanche un minuto i Liguri vanno a un passo dal vantaggio. Di Noia riceve al limite, scarica il sinistro verso la porta, forte, tocca ma non trattiene la palla che va poi a incocciare sul palo interno e torna tra le braccia del portiere. Ancora padroni di casa con Franzoni che ci prova dai 20 metri, tiro che passa un metro dal montante. La prima risposta dei Lupi è firmata da Riccardo Forte. La sua conclusione di controbalzo termina di poco al lato. I rosso-blu prendono le misure dell'avversario e giocano la propria partita ordinata e se possibile ficcante. Al ventottesimo Bariti vola sul filo del fuorigioco servito da Di Noia, tiro centrale e bloccato da Forte. Brividi per De Frate 30 secondi più tardi quando Di Stefano non ci pensa su due volte e dalla distanza prova a sorprendere il portiere di casa. Palla fuori non di molto. Malentella passa al minuto 33, corner da destra, la sfiora Franzoni di testa, la difesa è immobile e Di Noia è libero di insaccare da due passi. Si continua a rischiare sui calci d'angolo, Castelli alza troppo la mira di testa servito da Lipani. Sfiora il 2-0 Lentella ancora su calcio piazzato, punizione dalla tre quarti incornata di Tiritiello che Forte riesce a respingere distinto. Nella ripresa subito corposa la chance che capita a Castelli, grande stacco di testa non concretizza su cross perfetto di Bariti. Il campo basso tenta di rimettere in piedi la gara e per un pelo non ci riesce all'ora esatta di gioco, quando Pierno percorre quasi tutto il campo palla al piede, poi di sinistro scocca il tiro che dà l'illusione del gol. La pressione ospite è sterile, a 13 dalla fine i Liguri la chiudono sull'asse Santini-Franzoni che tutto solo insacca il raddoppio approfittando di un errore di prezioso. Si finisce male, all'ottantottesimo concesso un rigore bianco-celesti per atterramento di Baldassin su Santini che colpisce tra le proteste ospiti. Lo stesso attaccante era stato agganciato in area. Un K.O. che può essere anche salutare a patto di far tesoro degli errori commessi. fa tutto parte del processo di crescita di una squadra tutta nuova. Passiamo alla serie di con Lisernia, pareggio importante in casa contro il Notaresco. All'Ancellotta arriva il Notaresco dopo la brutta prova di Recanati dove Lisernia recupera il risultato con il solito clamoroso finale. Cambia pelle, cambia pelle con l'inserimento di Incosi e Perrone nel terzetto centrale di difesa e con Varela che torna in panchina per essere a disposizione nel corso della gara. C'è anche l'ultimo arrivato, Extermory, Renella. Inizia meglio il Notaresco che pur presentandosi con una sola punta crea qualche problema a Lisernia con l'inserimento dei due centrocampisti a supporto. La prima occasione è proprio degli abruzzesi, al nono. Cross dalla destra e colpo di testa di Forcini che non impensierisce più di tanto Draghi. Il lento inizio gara dei pentri ricalca quello delle ultime apparizioni, qualche disattenzione di troppo in appoggio e tanti danci lunghi dalle retrovie, quasi sempre preda della difesa ospite. Al ventesimo prima vera occasione del match è Persano a vincere un duello con Gimenez e a presentarsi davanti a Draghi con la sua conclusione centrale respinta dal portiere Sernino. Stesso copione due minuti dopo, è sempre Persano a partire questa volta alle spalle d'Incosi ma per fortuna dell'Isernia ancora una volta calcia male con la palla che sfida al lato. Sono campanelli d'allarme per un'Isernia brutta e imprecisa incapace di costruire il gioco grazie anche all'ottima pressione degli abruzzesi. Ancora Notaresco al ventisettesimo Forcini sfugge a Incosi ancora una volta impreciso in marcatura ed entra in area Gimenez salva tutto sulla linea. Al trentunesimo l'occasione più clamorosa della prima mezz'ora ancora un lancio dalle retrovie, smarca braccia, tutto solo davanti a Draghi ma il duello viene vinto dal portiere argentino che salva tutto. Ed è ancora Draghi, tre minuti dopo, protagonista su un calcio di punizione di Arrigoni destinato sotto la traversa. L'Isernia è totalmente assente, solo per la bravura del proprio estremo difensore e per l'imprecisione degli avversari sotto porta non si trova in svantaggio come sul colpo di testa di poco a lato di Formiconi sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo per gli abruzzesi. Il primo squillo dell'Isernia arriva solo al trentottesimo ed è l'occasione più importante del primo tempo. Ercolano viene smarcato sulla sinistra da una bella apertura di Cascio ma il suo tiro potente di sinistro colpisce in pieno il palo. Al termine dei 45 minuti uno 0-0 che premia oltremodo un Isernia in evidente giornata no. A rientro in campo Farrocco ripresenta una squadra ridisegnata con il 4-2-3-1 fuori in cosi dentro del bianco con la difesa che torna a 4 e con Ercolano, Cascio e Antinucci dietro De Filippo. I pentri provano a spingere ma al 49esimo ancora il notaresco a rendersi pericoloso con il solito lancio lungo per Di Cairano che viene recuperato da Perrone al momento dell'abbattuta a rete. Primi cambi al 53esimo dentro Varela per De Filippo e franzese per Pettorossi. L'unica emozione dei primi 20 minuti della ripresa è questo tiro sbilenco di Cascio che simboleggia la giornata negativa dei biancoceresti. Farrocco al 67esimo tenta finalmente la carta offensiva. fuori Babba e dentro Bainotto per un'iservi a trazione anteriore nella speranza di aumentare una produzione offensiva insufficiente. E al 69 esito si iniziano a raccogliere i frutti con Cascio che riprende una ribattuta errata della difesa bruzzese e calcia dalla distanza sfiorando la traversa con la sfera che dà l'illusione del gol. Al 65esimo Ercolano va via con una progressione delle sue e serve al centro Bainotto, girata dell'Argentino e salvataggio in extremis di L'Oliva. Farrocco inserisce anche Arzura per Miola a 13 dalla fine confidanto in quello che spesso è stato l'uomo della provvidenza. 85esimo calcio di punizione era 18 metri sulla palla Cascio la cui conclusione viene deviata ancora una volta dall'Oliva. Il forse in finale come accade ormai spesso è tutto dei biancoceresti tracinati da un Varela imprescindibile per l'attacco Pentro. Tutto inutile però perché le emozioni finiscono con i 4 minuti di recupero e con l'ennesimo miracolo di Draghi che salva tutto all'ultimo respiro con un'uscita davvero fenomeno. E' un pari, il quarto nelle ultime 5 giornate che smuove ancora una volta la classifica ma che questa volta suona come una mezza sconfitta per la brutta prestazione degli uomini di Farrocco che ormai non vincono dalla gara esterna con l'Izzora di oltre un mese fa. E per la nostra rassegna stampa come sempre partendo dal regionale molisano primo piano molise nell'apertura cittadella della salute Cardarelli verso il trasloco all'ex cattolica la regione tratta l'acquisto dell'immobile polo di assistenza e didattica grazie alla presenza di Unimol le altre notizie dentro la notizia conoscenza e cultura la lotta parte dalle scuole l'appello dei centri più collaborazione istituzionale la polemica Carrese di Portocannone spostata al sabato per motivi turistici Don Nicola non ci sta Santissimo Rosario di Venafro ambulatorio ortopedico aperto da poco è già preso d'assalto Santimotio di Termoli chirurgia parlenio primario qui molta voglia di crescere poi l'ampia pagina dedicata allo sport l'analisi di Braglia gol subiti sui nostri errori ora si inizia a fare sul serio il campo basso perde a Chiavari dopo dieci giornate di imbattibilità l'Intella bussa tre volte i Liguri passano dopo la mezz'ora rotondano nei minuti finali serie di quarto pareggio di fila per l'Isernia termoli frenato dalla Civitanovese basket la Magnolia supera Brescia e va all'assalto dei primi posti per il pallavolo Spike Devils ancora a Capao si interrompe il rapporto con Maniscalco le altre notizie l'agenda politica sul territorio si sgretola l'unità del Partito Democratico verifica sulla governance a gennaio la conta dei congressi di federazione poi la crisi idrica Robinetti a secco un'ora prima del previsto a Campobasso sabato in rovina esercenti e sindaca contro Moliseacqua il punto poi a firma di Pasquale Damiani Castrataro molla e molla vinci e rilancia ancora i testati regionali questa volta quella bruxesi partendo con la prima del centro la rivoluzione delle donne il titolo nel centro pagina ripatiatina una 64enne si ribella dopo anni di marito al marito stupratore denuncia shock mi ha violentata 30 volte il giudice lo caccia di casa ma allora improvviso aveva 76 anni addio a canale imprenditore della carta poi ancora la cronaca il corpo trovato il giorno dopo Franca Viglese muore travolto dal suo trattore nel taglio alto regione Abruzzo legge nuova legge elettorale Pietrucci penalizza tutte le aree interne il giornalista appenne Abruzzo caccia ai cervi Cruciani Terpazzesco deve decidere la politica poi nel fondo pagina pescare all'omicidio al parco Powell Crocs oggi si apre il processo prima udienza per conferire l'incarico della perizia psichiatrica ma ancora Pescara parlamentari in comune per il caso Fontanelle per lo sport lunedì dello sport Pescara una notte da Leone alle 20 e 30 il derby con il Pinetto l'Edriatico attesi 8 mila spettatori ancora le testate regionali abruzzesi questa volta con la pagina d'Abruzzo del messaggero nell'apertura Crocs inizia il processo a 5 mesi dal delitto dei sedicenni oggi in aula i minori imputati il giudice nominerà per i psichiatri l'esecuzione per questione di rispetto Chieti aveva 58 anni fatale la caduta dal trattore non rincasa trovato morto in un campo ancora Lanciano folia a Sante Usagno giovane accoltellato taglio alto dedicato allo sport Pescara Pineto sarà a derby d'autore stasera l'Adriatico la capolista cerca di allungare a più 6 giornata da cancellare in serie di le abruzzesi restano senza vittorie pari dell'Aquila fermato anche il Teramo nel fondo pagina l'Aquila prete alla sbarra per truffa straniera raggirata poi ancora oltre metà del reddito per cibo bollette bus la spesa mensile è di 1103 euro l'Abruzzo è nono posto tra le regioni nel taglio alto Monte Silvano Aurora sbanca a The Voice Kids con la canzone dedicata al papà poi l'Italian Rugby l'abruzzese Riccioni in campo a Torino è stato all'altezza dei mitici All Blacks lo show all'Angelini Albano canta il Chietistecca il concerto non porta fortuna la rete estate regionali molisane ed abruzzese diamo adesso uno sguardo alle prime pagine nazionali come sempre partendo dalla prima del Corriere della Sera Conte chiude l'epoca grillo il titolo nel taglio alto ex premier si prende il Movimento 5 Stelle abolito il garante via il tetto ai mandati sia le alleanze l'ira del fondatore vertice sulla manovra dopo tensioni Meloni e i suoi vice abbassate i toni giornata internazionale la violenza contro le donne non è un gioco di parole per ancora la crisi i razzi su Tel Aviv ma si avvicina la tregua in Libano ucciso il rabbino sparito Netanyahu farò giustizia poi la grande impresa del tennis italiano la Coppa Davis è di nuovo azzurra Sinner e Berrettini e Bis dopo le ragazze il trionfo in Davis il tennis è azzurro ancora le testate razionali questa volta con la prima pagina della Repubblica Conte cancella Grillo il titolo nel taglio alto svolta nel Movimento 5 Stelle la costituente conferma l'ex premier del Movimento aboliti il garante il limite dei due mandati il fondatore da Francescani a Gesuiti sia alle alleanze a sinistra ma applausi agli appelli antimigranti manovra vertice a Casameloni stop agli alleati e slitta il taglio Irpef femminicidi Giulia parla alla sorella sono morta con lei poi lo sport anche qui come in tutti gli altri quotidiani nazionali la grande impresa del tennis italiano festa azzurra la Coppa Davis ancora in Italia lo sguardo verso la prima pagina del messaggero nell'apertura il governo apre alle imprese vertice su manovra tavolo Ires premiale in salita il taglio dell'Irpef fondi per le forze dell'ordine in intervista a Zangrillo la PIA assumerà i giovani talenti direttamente negli istituti tecnici poi ancora Movimento 5 Stelle vince Conte a Deo Grillo sia al terzo mandato passa allo statuto il fondatore fuori sono Gesuiti ucciso rabbino Netanyahu vendetta la teguisraeliana ha raggiunto l'accordo per la tregua immediata in Libano poi oggi ovviamente la giornata contro la violenza sulle donne segnali ignorati denunce senza ascolto il grido delle donne per il 25 di novembre poi il tennis trionfo Sinner e Berrettini la Coppa Davis è ancora azzurra pochi giorni fa il successo delle ragazze 2024 l'Italia padrona il commento un dominio così era impossibile da sognare lo sguardo adesso alla prima pagina del tempo il grilicidio si tinge di giallo il titolo nel taglio alto è finita la spinta del sentirsi diversi dagli altri la vittoria del partito delle pochette Conte ruba il Movimento 5 Stelle a Grillo ma spuntano crimini ma spuntano crimini Fico al PC poco prima dei verdetti sorrisi e poi tutto a posto tra i fan di Beppe ipotesi brogli dal logo alla cannabis libera ecco la svolta pentastellata le altre notizie ovviamente anche qui c'è un riferimento alla vittoria della Davis di Sinner e Berrettini e poi il tempo di Osho dopo i soldati coreani Putin a ruola gli Yemeniti uno sguardo adesso alla prima pagina del fatto quotidiano i 5 Stelle uccidono il padre per diventare maggiorenni cambia tutto vince la linea Conte la base elimina il garante Grillo e i due mandati nel taglio alto escalation IDF il Libano 29 civili morti l'Iran al contraattacco contro Israele ucciso il rabbino degli Emirati Kiev nei guai Putin aumenta i soldati a cui cancella i debiti FT dai pirati OT mercenari Yemeniti per gli russi in Ucraina uno sguardo adesso alla prima pagina della verità il taglio alto bisogna capire le cause per combattere davvero la violenza l'unico patriarcato che esiste è quello che piace alla sinistra comunità islamica frutto di migrazione selvaggia autori in affitto trans usurpano i posti alle donne aspetti denunciati da molte femministe che vengono attaccate perché non è questione di genere ma di politica poi il tennis Sinder e i suoi fratelli tengono la Davis in Italia e poi quanto è accaduto anche nel Movimento 5 Stelle con Conte che cancella Grillo e stravolge il movimento Giuseppe vince la prova di forza Boriti garante e il limite dei due mandati sia le alleanze con i DEM via libera anche la possibilità di modificare il simbolo l'ira del fondatore da Francescani a Gesuiti uno sguardo adesso al quotidiano economico del Sole 24 Ore occupazioni giovane e lavoro il titolo in dettaglio alto decisivi stipendi tempi e garanzie secondo noto sondaggi 57% di chi rifiuta l'offerta lo fa per la paga 80% c'è composto da dipendente poi ancora così BTP e libretti postali Italiano Lisè il DPCM con le istituzioni con 25 mila euro di investimenti il valore dell'indicatore viene ridotto di euro investiti il valore dell'indicatore viene ridotto al 9% la Procura Europea sulle frodi IVA un patto mafioso riciclaggio con mixer delle cripto poi ancora fisco case ristrutturate rendite catastali alla prova del saldo l'IMU 2021 e 24 scuola nel taglio laterale panorama diplomi diplomati e licei ora la richiesta pochi tecnici e professionali in chiusura uno sguardo come sempre al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport tutto se non quasi dedicato alla ripresa del tennis italiano la Coppa Davis resta in Italia ancora nostra Berrettini e Siner travolgono l'Olanda è uno storico bis il numero uno l'avevo promesso a Matteo che scoppia in lacrime il commento capolavoro italiano il futuro ci sorride l'analisi Giannick il dominatore e i suoi superpoteri poi un riferimento anche alla Serie A Lazio e Fiorentina non mollano risposta anche del Napoli con Lukaku che torna al comando Ranieri non basta per la ripresa della Roma poi la Formula 1 Ferrari vicina alla McLaren un fantastico 4 il trionfo di Verstappen il mondiale più difficile uno sguardo adesso al nostro palinzesto ore 11 la partita di Lega Pro tra Virtus Entele e Campobasso poi Sdotur la nostra informazione con il telegiornale ancora la partita tra Entele e Campobasso le 17 a Tamuro Battenti le 19.30 la nostra informazione con il telegiornale alle 21 salute ai raggi X condotto da Rita Iacobucci alle 22 Inside Abruzzo condotto dal direttore Pierluigi Boraggi alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale si conclude così la nostra rassegna stampa vi ringrazio per averci seguito a tutti voi un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti